...d'appalto, truccate, quindi questa è la principale differenza, però qui una parte almeno di questi soldi pare che sia andata prima ai DS e poi al PD, parliamo di importi molto grandi. C'è un imprenditore, costruttore, scusate questa interruzione ma c'è stata una scorsa di terremoto piuttosto forte, quindi sono andato un po' in confusione, speriamo che sia anche l'ultima.